Le esercitazioni militari chiamate ZAPAD iniziate la settimana scorsa insospettiscono i paesi baltici e la Polonia. Si tratta delle esercitazioni congiunte tra Russia e Beloussia che i due paesi tengono ogni quattro anni e che a quelle latitudini creano qualche turbamento. I trascorsi storici giocano la loro parte. Varsavia, sostenuta dalle cancellerie baltiche, parla di mancanza di trasparenza. Stiamo osservando da vicino le esercitazioni ZAPAD. Ogni paese ha il diritto di condurre esercitazioni militari, ma in questo caso la trasparenza limitata, il contesto più ampio delle manovre e le attività ibride di accompagnamento stanno sollevando ovviamente la nostra preoccupazione. Le esercitazioni finiranno giovedì. Vedono coinvolti circa 200.000 militari, 760 veicoli terrestri, 80 tra aerei ed elicotteri e una quindicina di unità navali. ZAPAD significa occidente e indica l'area in cui si concentrano le manovre. Con questo tipo di esercitazione la Russia verifica la capacità di azione in caso di conflitto in Europa orientale.